bella ragazze da sascia ciao sono cat e visto che mia moglie prima ha fatto un video che mi è piaciuto tantissimo non l'ho mai fatto capito si chiama video regale di natale e qua ci sta l'infamata perché mi ha infamato un monte per quei video però è carino abito perché anche se sostanzialmente io non ho ricevuti pochini di regali e io io lascio il via allora nel link dell'info box o che sei mio che sia il suo manale entrambe troverete i regali in video con i miei regali o con i suoi regali e vedete un po di differenza c'è un po di differenza sì ma perché sostanzialmente io sono maschio quindi per il maschio c'è antecedenti anche se vogliamo un natale perché il natale è solamente un giorno dove i regali e quello che ho ricevuto io quest'anno bellissimo parto da parto da nulla parte legale allora io ho ricevuto questa qua da mia moglie bellissima che è la microcamera che è la micro flash che è la microcamera eccolo qua eccola c'è ancora la pellicola qua dietro e bella 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 così visto che sono anch'io faccio video così ma dai ma dai e l'unica cosa è che mi hanno dato una scrittina di memoria da 4 giga pochino adesso me la prendo da 32 giga così almeno c'entra abbastanza roba quindi la marca nilox mini fotocamera videocamera subacqua con questa ciò su il coso di plastica che può andare anche sotto l'acqua fino a 15 metri fino a 15 metri per informazione la trovate a media world la trovate da auronix la trovate da troni tutti i negozi di elettronica più più importante la trovate questa è quella che va ora che va tantissimo ora la gopro è vecchia questa è quella che va ora poi da mia mamma ho ricevuto l'abbonamento del psn visto che ce l'avevo bisogno mi ha regalato impanicato un attimo aspetta un attimo ah ok ho sbagliato mi ha regalato l'abbonamento per il psn un anno 12 mesi d'abbonamento dai miei suoceri visto che io sono un amante pescatore e vado tantissimo a pescare e ultimamente avevo bisogno di una lepaiola la lepaiola e quel retino per chi non lo sapesse quando c'è il pesce alla canna quella lepaiola è il retino sostanzialmente no avevo bisogno di quello perché quello mio mi si è rotto l'ultima volta ho preso la carpa che col dorso mi ha tagliato così quindi i miei suoceri mi hanno regalato questa lepaiola qua bellissima ora non so se si vede aspetta vi faccio vedere aspetta praticamente questa è esattamente quella che mi serviva a me né di più né di meno cioè io volevo quella da carp fishing ferma ferma questa aspetta vi faccio vedere una cosa volevo fargli vedere quanto è grande oppure così ho preso il cartellino lo posso tagliare il cartellino si vai eccola qua questa qua è la repaiola pesca anche lei che è grande pesca anche a vanessa vieni qua vanessa e questi sono i miei regali che sono contentissimo non è il numero che fa la sostanza nella qualità che fa la sostanza sono contentissimo specialmente di questa perché la la volevo per fare video anche fuori per essere meno intracciato da tutto la marabam la cosa bella è che ha il telecomando questa c'è anche il telecomando quindi da lontano raccontagli